E' bella a tutti ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video sul canale che è l'Avostizia Cipolla e ci sono stati un po' di intoppi per questo il canale è rimasto un po' inattivo e uno di questi motivi qua è stato che io mi sono riferito da scuola e sono andato a lavorare mentre Giorgio è andato a scuola, è stato promosso e poi è andato a lavorare anche lui in officina con suo padre quindi non è avuto tempo di registrare qualcosa abbiamo trovato un po' di tempi morti per fare questo video anche se lui non c'è perché appunto era a lavorare e boh spero che vi piaccia, siamo andati a farci un bagno al lago bello, ci vediamo al video e poi 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 ci vediamo al video